1, 2, 3, alla Madrid 1, 2, 3, alla Madrid È arrivato il momento di dire ciao a calcio Non a voi Personnellement je ne vais jamais digérer Maintenant comme j'ai dit Mon club il n'est pas responsable de cet échec en sélection Il a un enfant de plus dans sa famille désormais Lionel Messi Et il va en faire profiter Tous ses partenaires qui se sont donnés corps et âme Pour lui dans cette coupe du monde Messi pour l'éternité Et pour toujours Sous-titrage Société Radio-Canada Ronaldo Ronaldo, 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 Ronaldo... How are you feeling today? Nervous. Really nervous. Nervous? You're looking emotional. Io sono 60 anni, da che ho iniziato a seguire il gioco, è nel sangue, è davvero nel sangue. In key moments, Neymar mi ha avuto probabilmente 2 possibilità in 90 minuti di scoprire dei golvi, dei golvi, dei golvi, dei golvi. E io credo che dovrebbe essere stato il primo per il Brasile. Beh, è un altro argomento, quello che vuole, dove metti il tuo migliore penalti per la selezione? Un match particolare con Sergio Ricco in tutti i pensieri. Il finale è terminato, il Napoli, il champion d'Italia, il 3e titolo 33 anni dopo, è fatto, la bande di Luciano Spalletti è sacrata. L'alliazione con i tifosi... Sono sorrondato da molti persone... Sorry... Ma come ho detto, tutto è per me. ...e l'anguista più spettabile. Sebastien Allaire ha avuto testiculare il testiculare. Il debut che dovrebbe aver capito, in momenti di scoprire, potrebbe mai arrivare. Ma qui siamo. L'immagine in cui vediamo come Vinicius dice e le dice, sì, è questo, è questo, è questo che mi ha chiamato Mono. Vinicius non ha dubbato di chi è il personaggio che mi ha chiamato Mono. Nisa. Allaia. Allaia. Chi decide di chi si prende la vita, che lei ma che riguarda Rad hookere, Pellé è morto, il futbolista di legenda, è morto, il aveva 82 anni, è la sua famiglia che l'appelle, Pellé è il solo giocatore di futbol al mondo a avuto 3 Coupes del Monde, ha avuto più di 1000 buti, certi, durante il giocatore dell'annico. La sua famiglia è confermata, da campioni a campioni, in 7 anni, Leicester sono rilogati, la sua meteoria è ora counterbalancata da una scena di freddo di Grace. sono infatti championi d'Europa qui va pouvoir recuperare il coup de cifre et finale de Marco Fritz il n'y aura pas pour le Borussia de 9e titolo de champion d'Allemagne ils avaient toutes les cartes en main Matsumovs et ses co-equipiers mais ils sont passés au travers de la première période